Brad Pitt vede o parla raramente con i suoi figli più grandi, frutto del lungo legame con l'ex moglie Angelina Jolie Una fonte vicina all'attore ha confermato alla rivista People che Brad, praticamente non ha alcun contatto con i ragazzi più grandi L'insider ha spiegato che l'accordo di custodia di Brad e dell'ex moglie Angelina Jolie, consente a Pitt di fare visita solo ai figli che non hanno ancora 18 anni, ovvero i gemelli di 15 anni Vivienne e Knox Tuttavia, l'impegno di Brad con i figli più piccoli è stato limitato negli ultimi mesi a causa del suo programma di riprese A giugno, Scillo, l'altra figlia di Brad e Angelina, ha presentato documenti legali per cambiare il suo cognome da Jolie Pitta Jolie, mostrando così che il rapporto con suo padre è peggiorato Una volta appresa la notizia, Brad era, sconvolto e consapevole Brad, 60 anni e Angelina, 49 anni, condividono sei figli insieme Maddox, 22 anni, e Pax, 20, non usano pubblicamente il nome del padre da diversi anni, preferendo invece usare il nome Jolie La figlia Zahara, 19 anni, si è presentata come Zahara Marley Jolie durante un impegno universitario, e Scillo, 18 anni, ha reso ufficiale solo da poco il suo cambio di nome Vivienne, 15 anni, è stata recentemente annunciata come Vivienne Jolie, quando ha lavorato come assistente alla produzione di uno spettacolo teatrale Non è noto se Nox usi il nome di suo padre Brad e Angelina, si sono amati dal 2005 al 2016 L'ex coppia è ancora coinvolta in una battaglia legale per il divorzio e alcune proprietà Grazie a tutti